La polizia di Stato ha denunciato una coppia di aquilani, un 43enne e una 42enne, per furto aggravato in concorso tra loro, per aver rubato due telefoni cellulari da un'autovettura. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria anche per danneggiamento aggravato. I fatti risalgono alla sera del 15 febbraio, quando il personale della squadra volante ha effettuato un sopralluogo nei pressi di una tabaccheria del centro, dove la donna vittima del furto, verso le 20, si era fermata col suo veicolo per acquistare le sigarette. Ritornata alla macchina, che non era stata chiusa a chiave, ha notato che erano stati rubati i suoi due telefoni cellulari. Nella mattinata successiva, la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della tabaccheria ha permesso di appurare che l'autore del furto era sopraggiunto a bordo della sua autovettura e dopo essere sceso, si era introdotto nel mezzo della vittima prendendo i due telefonini. La derubata ha riconosciuto nell'autore del furto un suo parente con cui non è in buoni rapporti da alcuni anni. Rintracciato l'uomo e convocato, ha ammesso le proprie responsabilità affermando che al momento del fatto si trovava insieme alla moglie. Non è stato però possibile recuperare i cellulari perché l'uomo li aveva buttati all'interno di alcuni secchi dell'immondizia, dove sono stati rinvenuti solo alcuni pezzi dei telefoni.